Prosegue senza sosta la protesta dei sette vigilanti che prestavano servizio presso i siti dell'AMIU, da tre mesi ormai rimasti senza lavoro. Prima le mattinate e le nottate trascorse al freddo, assediati sotto il comune di Trani. Oggi c'è chi è salito sul cornicione del cinema Bellini in via Fusco, un forte gesto per attirare l'attenzione su di una situazione critica e di difficile soluzione. Perché questo è un gesto di disperazione, di esasperazione e veramente anche umiliazione. Credetemi, non è facile arrivare a questo punto, esporsi o dei figli, non è bello. I sette vigilanti di Sicuritalia chiedono la revoca del servizio a Vegapol, che non avrebbe rispettato la clausola sociale e denunciano l'assenza dell'amministrazione comunale. I lavoratori sono stati messi fuori per un marchigegno che non sappiamo ancora da dove è venuto e cosa è successo. Una cosa sola sappiamo che è successo è che attualmente ci troviamo appesi ad un'azienda di cui non sa cosa bandire nei nostri confronti. Ma c'è già chi è disposto ad avviare dialoghi, ad aprire tavoli tecnici e ad immaginare tante strade percorribili per cercare di trovare una seppur complicata ma necessaria soluzione. Da parte dell'amministrazione c'è la grande disponibilità. Questo, almeno al momento, è stato sufficiente per far tornare un po' loro indietro sui loro passi, scendere da quel tetto e quindi adesso nei prossimi giorni continueremo a fare quello che stiamo facendo già da diverse settimane per arrivare, me lo auguro, al più presto ad una soluzione che sia la migliore possibile. Ci stiamo attivando con il sindaco e l'amministrazione comunale, abbiamo chiesto e detto come organizzazioni sindacali che siamo disposti a lavorare insieme per il raggiungimento di questi obiettivi. Obiettivi che devono essere definiti in un percorso calendarizzato e con soluzioni che vadano nella direzione di assicurare un minimo di salario e di tranquillità ai lavoratori.